Anticipazioni Tempesta d'amore, lunedì 28 ottobre 2019 Dopo la brutta esperienza vissuta con Eva sui Carpazzi, Christophe fa capire a tutti di essere cambiato nel profondo e non si mostra più interessato alle lotte di potere né ai soldati. L'uomo inoltre è sempre più attratto dalla moglie di Robert, che vuole conquistare a tutti i costi. Ha perso interesse per il Fustenhof e per tutto ciò che attiene ad esso e per questo motivo comunica alle sue figlie una decisione molto importante riguardante la sua eredità. Come reagiranno Denise e Annabelle? Joshua nel frattempo ascolta di nascosto una conversazione tra Jessica ed Harry e arriva a trarre errate conclusioni.